Pomeriggio a tutti quanti cari telespettatori, in questo momento siamo in diretta da Caserta e parleremo delle sparizioni che avvengono sempre più frequentemente nel territorio. Purtroppo la fascia d'età coinvolta è solo di adolescenti e non si sa né dove si trovino né in che condizioni siano. Si sospetta però un coinvolgimento da parte di alcuni moderatori dell'applicazione social Discord. Non sappiamo i nomi dei moderatori, però possiamo dirvene alcuni dei sospetti. Discord!